Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì e come ogni mercoledì c'è la rubrica dedicata alla filosofia e all'intelligenza artificiale. Volevo discutere insieme a voi un punto sicuramente molto particolare che penso affligga tutti i teorici e chi per qualunque motivo si è affacciato alla filosofia per un momento. Ed è un dibattito che esiste più o meno, penso da quando esiste l'essere umano e da quando esiste più o meno la filosofia, che è il dibattito riguardante determinismo e libero arbitrio. Premetto che probabilmente non esisterà un video che riassume e che dà una risposta totalizzante al concetto riguardante queste due branche filosofiche, queste due visioni filosofiche molto differenti tra di loro che per un periodo si sono anche collegate ma che risultano comunque divergenti come teorie. Però cercherò almeno in linea di principio di fare una piccola sintesi. Determinismo è una corrente filosofica che riguarda anche in parte la matematica come del resto anche il libero arbitrio, perché ripeto che sono influenze che diciamo influenzano comunque la vita, la visione e le virtù dell'essere umano come è di fatto da sempre. Come corrente filosofica, ripeto, determinismo dice che qualunque azione noi possiamo fare determina delle conseguenze e queste conseguenze, riassumendo, sono in una scala di possibilità determinate, ecco perché determinismo, cioè le possibilità che apparentemente o comunque risultano infinite in realtà sono finite e noi scegliamo tra queste possibilità apparentemente infinite ma che in realtà sono finite. E questo in parole povere è il determinismo, una serie di azioni, di attività che per quanto grandi possono risultare comunque porteranno una determinata conclusione scegliendo determinati passaggi. E questo in sintesi è il determinismo che è una branca molto importante che fa parte della filosofia e della matematica e dell'intelligenza artificiale. molti matematici, anche l'idea stessa di intelligenza, di intelligenza artificiale basata in larga parte è su determinismo. Però, rimane un però, perché in realtà si aggiunge il libero arbitrio. Il concetto del libero arbitrio invece è più tendente a un concetto di infinito dove tra queste possibilità infinite noi scegliamo qualche possibilità per il semplice motivo che comunque noi e determinate caratteristiche sono limitate ma non vuol dire che le possibilità siano limitate ma sono illimitate. Solo che la durata, diciamo, essenzialmente è limitata a meno che una persona non creda nella vita oltre la morte, nella rincarnazione e in quel caso dovremmo aprire un'altra parentesi riguardante anche visioni religiose e filosofiche. Anche in quel caso penso che comunque sia molto interessante e allora in quel caso noi potremmo allargare anche il discorso delle probabilità alla tendenza infinita. In parole povere, riassumendo e facendo un esempio, mi è venuto in mente questo esempio pensate per esempio al superenalotto oppure a un bingo, non il classico bingo natalizio ma un bingo dove ci sono veramente, in un caso deterministico, una possibilità altissima ma non infinita di scelta di numeri che poi porteranno successivamente a una serie altissima ma comunque possibilità finite di scelta di numeri. Pensate a questo. Invece nel caso del libero arbitrio ci siano delle possibilità infinite, potenzialmente infinite dove noi poi scegliamo le possibilità finite, ricordando che in secondo determinate visioni invece anche le probabilità e le possibilità si ripetono all'infinito. Ma rimanendo in una versione specifica del libero arbitrio e del determinismo il concetto è più o meno quello. Noi scegliamo nel caso deterministico i nostri numeri, che sono quasi ma sono comunque l'ampiezza delle possibilità sono finite. Noi scegliamo i nostri numeri, i nostri numeri non escono, ok? Oppure potrebbero uscire al contrario i nostri numeri. Abbiamo avuto, secondo una determinata versione deterministica, non abbiamo avuto fortuna. Era una legge naturale, era come si suol dire destino, ok? Nella versione invece del libero arbitrio esiste il concetto di fortuna, cioè possiamo associarla al concetto del fatto che essendo infinite, le possibilità di scelta dei numeri, tra queste possibilità infinite, noi scegliamo quella. La domanda è, sia in un caso che nell'altro, comunque in linea generale, noi non possiamo dire che conosceremo o avremo la possibilità di conoscere tutte e due le combinazioni, stiamo attenti? Questo è il concetto. Ho fatto questo video perché questo concetto è molto interessante. Sia in un caso che nell'altro, noi non, il senso è che da un livello filosofico e speculativo potrebbe essere molto interessante, ma non, scusate, da un livello reale, la risposta è che non è possibile determinare, a meno che noi non riduciamo le possibilità delle attività ad attività, ad attività che comportano, diciamo, una fine che può essere prefissata nel breve termine. Io, diciamo che, sono più tendente a una visione tendente all'essere infinito. Per farvi un altro esempio, per esempio, volevo, per esempio, si potrebbe fare l'esempio dell'universo. L'universo, ci sono due possibilità. O è infinito, oppure è tendente all'essere infinito, ma è comunque finito. Sia in un caso che nell'altro. Non vuol dire che contandolo probabilmente nella nostra esistenza arriveremo a una fine, perché può essere che non arriveremo neanche mai a una fine. La risposta, sia in un caso che nell'altro, dipende dalla scelta, dalle considerazioni personali e dal punto di vista personale. Noi possiamo anche essere convinti che, come la Terra, l'universo abbia comunque una fine. Ma voi siete convinti che, in linea generale, sia in un caso che abbia la fine, che non abbia una fine, abbia, è la domanda fondamentale, senso contarla? Molto probabilmente, per una determinata tipologia di persone, avere il controllo su queste cose li rende, diciamo, più sicuri e più motivati. Dal mio punto di vista, la risposta è che, in ogni caso, è bellissimo sapere che le possibilità sono infinite, ma, in linea generale, io avrò comunque a disposizione delle possibilità che, in linea di principio, possono essere infinite, ma che, in realtà, per varie motivazioni sociali, esistenziali, energetiche, perché comunque noi utilizziamo comunque energia, per rispondere alle possibilità di tutti i giorni, sono comunque, in linea generale, finite, anche se in linea di principio potrebbero essere infinite. Ecco, questa, per me, è la considerazione fondamentale. E questo, molto probabilmente, questo discorso si potrebbe collegare all'intelligenza artificiale, alle macchine, pur noi, pur non essendo comunque tendenti a essere macchine, comunque, in linea generale, abbiamo comunque, potenzialmente, delle scelte. Queste scelte potranno portarci a un utilizzo di energia, a delle responsabilità, a delle cose da fare. E quindi, in linea generale, anche noi siamo tendenti, diciamo, a una sorta di determinismo. Io concludo questo video e sono contento di aver riniziato la rubrica filosofica con un tema, probabilmente così, molto importante e, allo stesso tempo, così tanto vasto come può essere quello del libero arbitrio del determinismo. Molto probabilmente, nella prossima registrazione dedicata alla rubrica filosofia e intelligenza artificiale, la dedicherò, invece, al concetto più ampio di intelligenza, perché ho in testa cose molto interessanti e vi richiamo al prossimo video. Molto probabilmente metterò questo video anche su YouTube e chi è interessato a rivederlo, dopo che finisce qua nella diretta, rivedere anche successivamente. Se avete considerazioni, commenti, vi chiedo di postarmeli, mandarmeli in privato oppure postarmeli nelle varie chat e nei vari social dove sono presente. Buona giornata a tutti quanti!